Di Corrado Bertoni, dalla Camera di Giulia, Teatrini. Un nuovo colore. Il colore che non esiste chiese ad un pennarello rosso. Amico, tu lo sai come mi chiamo? Non lo so, non ti ho mai visto. Allora il colore che non esiste fece la stessa domanda ad una penna biro. La penna guardò e poi scrisse il tuo nome è non esisto. Da quel giorno il colore non esisto entrò nell'arcobaleno ma nessuno l'ha mai visto.